Grazie dottore, si continua con Franco Brugnola. Grazie, io vengo da Sabaudia, per 40 anni ho fatto il dirigente della sanità dal Ministero della Salute alla Regione Lazio e poi nelle ASL e prima però nelle USL. Io vorrei intervenire sul problema della partecipazione dei cittadini, non è vero che non ci sono norme che non tutelino i cittadini, il fatto è che non vengono applicate e questo è molto grave perché già l'articolo 14 del decreto legislativo 502 del 92 prevedeva che i cittadini e le loro organizzazioni potessero partecipare alla fase di programmazione, monitoraggio e valutazione, il che mi sembra abbastanza buono, soltanto che non viene fatto fare dai direttori generali delle ASL. Poi è uscita il comma 461 dell'articolo 2 della legge 244 del 2007 che prevede che venga fatta la carta della qualità dei servizi e che i cittadini vengano coinvolti in riunioni annuali per la valutazione della qualità dei servizi. Ma la novità è di quest'anno, è il decreto legislativo 74 che ha modificato il famoso decreto Brunetta, quello per la misurazione della performance della qualità dei servizi che si applica a tutte le ASL, è già in vigore, che prevede che i cittadini anche associati, quindi prima viene il cittadino e poi viene l'associazione, il singolo cittadino può agire anche autonomamente, possano intervenire nella fase di programmazione, monitoraggio e valutazione della performance e se le cose non vanno può anche scrivere direttamente l'organismo indipendente di valutazione. Io per esempio questo già l'ho fatto, ho ottenuto qualche risultato, per cui bisogna che i cittadini e le associazioni facciano una sorta di empowerment di tutti quanti i loro soci, certo bisogna insegnare le cose perché non è che tutti i cittadini sanno come devono fare, però gli strumenti ci sono e non è vero se mi permette la collega del Molise che i sindaci non possono far niente, i sindaci hanno il potere di dire che il direttore generale non è stato capace perché il direttore generale deve presentare un rendiconto che non è un rendiconto soltanto di dire due più due, deve dare anche atto dell'output, cioè quali sono stati i risultati dei soldi che hanno spesso. Grazie. Grazie. E ribadendo questo punto sui sindaci, appunto vediamo oggi sempre un allontanamento di questi verso la popolazione, ma loro devono capire una cosa, che se sono lì sono a rappresentare noi cittadini, non sono a rappresentare interessi sovranazionali ed economici.